Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Un aggiornamento su questo titolo e soprattutto spiegarvi com'è e cosa ne penso. Allora, il gioco dell'anno scorso era all'uscita, poi dovrebbe essere anche migliorato con gli aggiornamenti, però aveva dei seri problemi. Era il primo gioco dei Frontier, gli stessi di Elite Dangerous, Jurassic World e altri, insomma, Planet Coaster, ecco, gli stessi. Il gioco aveva delle criticità perché non c'erano grosse differenze, almeno al rilascio, con le diverse tipologie di gomme e le auto sembravano su un binario e quindi sorpassavano sempre negli stessi punti. Non c'erano, diciamo, i colpi di testa di piloti più talentuosi. È cambiato già l'anno scorso con degli aggiornamenti, quest'anno è ulteriormente cambiato, migliorato. Non sentite la colonna sonora sotto perché l'ho levata per i diritti, però sappiate che sotto queste schermate principali ci sono i musici ufficiali della Formula 1. Il pezzo orchestrale bellissimo dell'interluzione della Formula 1. Voi potete, diciamo, interpretare il team principal di un team della Formula 1, andare a acquisire, a mettere sotto contratto i piloti e gestirvi le vostre gare, e dalle qualifiche, dalle prove libere, alle qualifiche e la gara, passando anche per degli eventi sportivi, eventi sponsor tra una gara e l'altra. Ci sono alcune novità rispetto all'anno scorso, ma inizio col dirvi che se consideriamo Formula 1 Manager nel suo complesso, trovo scandaloso che abbiano rilasciato Formula 1 Manager 22 l'anno scorso, pieno di problemi, aggiornato, finché l'hanno aggiornato, e poi abbiano rilasciato il nuovo. Ed è stata per me una scelta incomprensibile, perché potresti fare un DLC e aggiornarlo, invece altri 50€. Se invece lo calcoliamo escludendo il titolo dell'anno scorso, quindi non lo avete, prendete questo. E in quel caso ha senso, il gioco merita, e niente da dire. Sono state aggiunte diverse cose, tra cui, vabbè, c'è arrivi la gara, quindi possiamo riscrivere la stagione di quest'anno, e qui, man mano, vengono aggiunti i nuovi gran premi e possiamo rigiocarceli, quelli reali, e verranno aggiunti anche quelli che accadranno, poi verranno svolti durante quest'anno, cercando di portarli a un epilogo diverso. Mentre i scenari esclusivi ne potete avere alcuni grazie al preordine, perché il gioco esce il 31 di luglio, lo sto giocando in anticipo per chi lo acquista prima, e lo potevano trattare giorni prima, e ci sono degli scenari in cui ci mettono in condizioni particolari, noi dobbiamo vincere questo scenario e riuscire a completare la gara, insomma, gestendo delle situazioni complicate. Mentre, se noi andiamo a vedere la mia partita, adesso vedo se riesco a farvi vedere la mia partita, io sono al primo gran premium, adesso io ho giocato le prove, ho visto dei miglioramenti, ho visto dei cambiamenti rispetto all'anno scorso, ma prima ancora di farvi questo, di farvi vedere questo, io voglio tornare al menu principale e farvi vedere come funziona il gioco normale. Allora, la cosa interessante è che potete, è tutto doppiato in italiano, tranne ovviamente le voci dei meccanici, degli ingegneri di pista, potete scegliere una squadra, io ho iniziato con la McLaren, dovevo portarla a vincere, vedete che sono state recreate le facce di vari piloti, e andiamo avanti, vabbè, io adesso blocchiamo team principal, qua ci può chiedere se siamo degli esperti, se stiamo ritornando a giocare, in questo caso ci mostrerà solo le novità, mentre qui non ci mostrerà alcun tutorial. Noi iniziamo, vi faccio vedere il menu, quello che è il menu di gioco. Ciao, io sono Odri della squadra ingegneri. Va bene, qua ci viene presentato tutto, buongiorno e va bene. Quello che voglio farvi vedere in questo video è la divisione, perché il gioco può essere paragonato a un Motorsport Manager, è uscito già diversi anni fa, è stato già andato un po', ci sono alcune differenze tra quelle licenze diverse, così. Questa è la licenza ufficiale Formula 1, ha delle cose in meno e in più, dipende. La cosa che vi dico subito, apprezzo molto di questo titolo rispetto a Motorsport, Motorsport ha più anni di esperienza, quindi per me è anche più profondo, ma ci sono delle cose che non mi sono mai andate giù di Motorsport. Per quanto la fase di qualifica e di ricerca dell'assetto siano molto simili, non mi piace il fatto che non succedano mai, uno, incidenti, e due, magari l'incidente capita, ma è difficile che capiti tra, diciamo, piloti della stessa squadra, ad esempio. Qui invece può capitare, capitano le bandiere rosse, capitano le safety car, le virtual safety car, capitano tante cose, come capita nella Formula 1 attuale. Quello che manca un po' in questo genere di giochi, manca un po' meno in Motorsport, ma manca comunque, in linea generale, è quello che succede invece in un Football Manager, dove ci sono le diatribe tra i calciatori e le squadre, insomma, litigate, uno vuole andare, succede meno, ma è anche nella Formula 1 succede meno, in realtà. Qua l'email, qua abbiamo il calendario. Il calendario è molto interessante perché poi ci fa vedere gli appuntamenti che abbiamo, i contratti che abbiamo, abbiamo un evento in fabbrica, e ogni evento ha dei bonus e dei malus. ci porta soldi, ma magari ci porta, se lo sponsor è presente, un weekend specifico dell'anno, avremo i meccanici un po' meno performanti. Qui abbiamo i circuiti, ci sono state aggiunte anche le sprint race, che sono quelle gare veloci del sabato. La gara, abbiamo la panoramica dei nostri piloti, con i loro punteggi, abbiamo la possibilità di assemblare l'auto. L'auto è fatta molto semplice, nel senso che ci sono delle parti di motore e delle parti di aerodinamica. Aerodinamica, ecco. Il telaio, gli alettoni, le pance laterali, sotto scocca e le sospensioni, mentre il gruppo propulsore ha il motore, la scatola del cambio e il gruppo elettrico. Sono tutte parti che noi possediamo in una parte limitata in magazzino e che possiamo sostituire tot numero di volte, possiamo andare anche a produrle, ad esempio. Adesso poi vi faccio vedere, perché qui abbiamo lo sviluppo dei componenti, possiamo andare a fare una produzione, quindi ad aumentare il numero di pezzi in magazzino e possiamo produrne tre, ma se dovessimo aumentare il livello delle nostre fabbriche potremmo produrne di più. Abbiamo la progettazione e la ricerca, la progettazione partirà da aprile e si inizierà già a lavorare sui pezzi della stagione dopo, dell'anno dopo. Il progetto invece ci consente di andare a spendere delle ore a un simulatore e alla galleria del vento e ci permetterà di scegliere con che intensità, cioè con che obiettivo lavorare a questo pezzo, nello specifico adesso il telaio, quanti ingegneri a segnare, ne abbiamo un totale di 10, ne possiamo segnare un massimo di 6, quindi il secondo pezzo, se ne produciamo qualcos'altro, potremmo metterne solo 4 e che approccio, se è un approccio affrettato, intensivo, questo cambia costi e tempistiche e poi possiamo, vedete, andare a confermare la progettazione. Io adesso annullo perché non lo voglio fare. Abbiamo i piloti, abbiamo il personale, sono state aggiunte le squadre di meccanici e i meccanici hanno una particolarità, quella che possiamo scegliere come andare ad allenarli, adesso qua non lo possiamo vedere, si può vedere solo nel calendario, settimana per settimana su cosa farli allenare. Un'altra cosa che è stata aggiunta è la possibilità di scegliere l'indirizzo dello sviluppo del pilota. Praticamente abbiamo dei piani di sviluppo e vediamo quali sono le carenze di un nostro pilota e possiamo andare a scegliere. E ognuno di questi diversi tipi di sviluppo hanno un'influenza su 4 abilità. Ne influenzano 4, sono coinvolte 4 abilità. Abbiamo anche ovviamente l'indice di sviluppo, dipende quanto un pilota è giovane, quindi predisposto a migliorare e crescere, diventare più bravo. E questo mi ricorda un po' una meccanica del gioco di ruolo, il bonus della struttura. In base alle strutture che abbiamo nella nostra squadra abbiamo dei bonus, abbiamo il contratto, abbiamo la carriera. La cosa che non ho capito, non si poteva fare nel primo capitolo, nel capitolo dell'anno scorso, e credo neanche quest'anno, se io volessi un domani mettere giovinazza e posto di science, non lo posso fare. E questo è un peccato, posso farlo partecipare alla prima sessione di libere di ogni gran premio, ma non posso cambiarlo, posso però prendere, andando su di lui, andando su scouting, andare a assumerne un altro posto suo, lui viene liquidato. E questo è un peccato perché si poteva fare su Motorsport Manager. Poi ovviamente se dico una cavolata e si può fare, fatemelo sapere, però sarebbe bello se lui quest'anno è veramente sotto tono e voglio cambiarlo con giovinazzi, non lo posso fare. Questo è una cosa che mi aveva fatto storciare il naso. Abbiamo il capo tecnico, il capo dell'aerodinamica e i due ingegneri di gara, per cui sarà nostro interesse farlo familiarizzare col pilota. Ad esempio questo è un morale basso e comunica con Leclerc, e in questo caso Riccardo Adami invece comunica con Sainz. Ha un morale buono e hanno entrambi nove mesi di contratto ancora, hanno una valutazione generale e poi abbiamo il direttore sportivo. Abbiamo anche la squadra di ingegneri che è quella che vi facevo vedere prima per assegnarli nuovi pezzi, e qui la capacità di ingegneri dipende dal livello del centro a progettazione che adesso andremo a vedere. Abbiamo lo scouting, la possibilità di andare a cercare ognuno di queste singole figure, compresi i piloti, piloti che possono gareggiare in Formula 1, Formula 2, Formula 3. Tra l'altro alcuni non possono gareggiare perché devono avere 18 anni e aver gareggiato almeno due anni, due stagioni in Formula 2 e in Formula 3. In realtà credo sia più complesso perché credo servano delle prestazioni sportive di un certo livello per avere la superlicenza della Formula 1, ma questo ci possiamo anche passare sopra. Abbiamo le strutture di sviluppo dell'auto, vedete il relativo livello, quindi possiamo andare a aumentare il simulatore CFD, che è il fluido dinamica computazionale, insomma per simulare il flusso dell'aria. Averlo di classe più alta ci farebbe comodo. In questo caso possiamo andare a aggiornarla, ristrutturarla se si danneggia nel corso degli anni, appunto la aggiorniamo o la ristrutturiamo. Qua abbiamo le strutture del personale e qua abbiamo le strutture operative. Col centro visite vedete che ci dà un reddito perché è un centro per i fan, la sala dei cimili attrattiva della squadra, il morale dei piloti aumenta, la sala del consiglio e così via. Abbiamo il consiglio e qua possiamo vedere il budget perché è molto interessante la parte economica perché noi abbiamo dei soldi, abbiamo un budget, ma abbiamo anche una spesa massima che possiamo fare. Abbiamo, non so, 100 milioni, ma noi abbiamo un miliardo, non possiamo spendere un miliardo, possiamo spendere quei 100 milioni e se sforiamo quel budget abbiamo delle penalità grosse dalla Formula 1. Abbiamo le norme e i regolamenti riguardo tutte le cose che possiamo dare a vedere i cambiamenti diciamo tra il 2023 e il 2024. Il regolamento sportivo possono cambiare delle regole, potrà tornare magari il punto bonus per la pole position o per, beh, quello per il giro più veloce c'è, potrebbero toglierlo e così via. In Motorsport Manager si votava, c'era questa sorta di, ma c'era anche questa divisione tipo serie A, serie B, serie C dove le prime due scuderie della Formula 2 passavano in Formula 1, le ultime due, qua non c'è. Qua non potete giocare la Formula 2, ma potete, solo la Formula 1, ma potete assumere i piloti della Formula 2 e Formula 3. Poi, non so dirvi se spunteranno nuovi piloti, magari con qualche aggiornamento, però piloti al momento ce ne sono parecchi tanti ce ne sono, quindi potranno crescere sempre in modo diverso ovviamente non è il calcio dove ci sono migliaia di giocatori, migliaia di partite, insomma qua il premio è quello quindi bisogna vederlo in un'ottica un pochino più ristretta. La contabilità è quello che abbiamo visto e abbiamo anche i piazzamenti che, questa è in linea generale l'interfaccia e le cose che si possono fare. Poi ovviamente ci sono le varie prove, le prove libere e così via. Vediamo se, torno al menu principale, vediamo se mi ha tenuto la partita, se no, no, me l'ha cancellata. Va bene, fantastico. Allora, sì perché potete tenere una partita sola, mi sa. E infatti ha fatto il salvataggio automatico, me l'ha sovrascritta, la mia partita della McLaren, ma poco male nel senso che adesso vi faccio vedere rapidamente com'è a livello grafico, giusto per fare un'analisi. Allora, voglio saltare tutti i tutorial. Lui purtroppo ci farà saltare, qua ci sono le mail, io le ignoro perché voglio andare avanti. Lui purtroppo ci farà saltare la prima, per tutorial, la prima fase delle prove libere. Questo ci farà arrivare alle qualifiche con un assetto che non è ottimale. Questo è quello che vi dicevo prima, il piano dello sviluppo dei meccanici e possiamo scegliere il tipo d'allenamento per fargli fare quando riposano e possiamo scegliere che cosa fargli. Esercitazione sosta, rimozioni pneumatici, piuttosto che installazione, il sollevamento dell'auto e così via. Hanno due allenamenti mattino e pomeriggio e poi si riposano tre giorni, martedì, mercoledì e giovedì, e poi vanno a fare la gara. Vabbè, noi facciamo veloce perché vogliamo andare alla gara. Mancano due giorni e poste in arrivo preparativi per la gara, noi abbiamo l'auto già completa. Abbiamo queste cose che succedono anche in Motorsport, quindi possiamo andare a aggiungere delle garanzie, e non sempre lo possiamo fare, dove ci pagano di più, ma se non la rispettiamo ci perdiamo. O se no, lasciare quello che c'è e ogni sponsor, poi gli dovete approfondire, il gioco vi spiegherà come fare da una stagione all'altra, bisogna firmare i nuovi contratti con i vari sponsor. Non potete creare una scuderia vostra, anche questo è un peccato, però è una licenza ufficiale questa, quindi è un po' il limite, il bello è il limite del gioco. Sono piene di animazioni, piene di scene che potete vedere, quindi noi diamo le prove 1, ci fa, no, ce le fa anche gestire, ma noi la simuliamo fino alle qualifiche 1, così. Abbiamo simulato, vediamo i risultati, noi abbiamo delle prestazioni assolutamente buone, e diciamo che qua più o meno quello che avevo fatto in McLaren è in linea con quello che hanno fatto anche adesso, quindi io poi la ricomincerò, la giocherò in McLaren perché voglio una sfida un pochino più alta. Partire con una squadra già forte, tra virgolette, non è bello, insomma. Allora, la grafica è questa, è stata aggiunta un'altra particolarità, quindi abbiamo detto, lo sviluppo dei piloti è stato un po' rivisto, è stata aggiunta la possibilità di cambiare scuderia, nel senso che se ci licenze e non ci fanno delle proposte dell'alto possiamo andare, mentre la versione dell'anno scorso non si poteva fare. Abbiamo le auto pronte, non abbiamo granché da montare, e abbiamo le qualifiche. Quindi gestiamo noi le qualifiche, potrete andare a decidere anche il ritmo che il pilota deve tenere, glielo potete configurare all'inizio mettendogli oltre il tipo di gomma i componenti dell'auto, se cambiargli qualcosa vi farà perdere tempo, mettergli l'assetto, e questo c'era in Motorsporta e anche l'anno scorso in Formula 1 Manager 2022, praticamente lui ci dà un giudizio del 65% dell'assetto. L'assetto lo fate nelle tre sessioni di prove libere, adesso le abbiamo simulate, il tutorial ve lo fa simulare, però in pratica vedete che qua sarebbe l'ideale, quindi noi possiamo andare a spostare qualcosina cercando di farlo combaciare nel punto che pensiamo sia il migliore, vedete che qua già potrebbe essere buono. Ovviamente questo lo fate nelle prove libere, nelle qualifiche fate due giri a sessione, quattro giri a sessione compresi i giri lanciati, se non sei, e una volta messa in pista l'auto non potete più cambiare niente, se non l'inclinazione di un'ala, quindi questo è un rischio farlo adesso, però io lo faccio lo stesso, perdiamo del tempo e lo fanno. La cosa molto bella, vabbè qua avete il tempo, la cosa molto bella è che potete velocizzare il tempo, ma qualora teniate il tempo reale di gioco, voi vivete un gran premio in scala 1 a 1, cioè dura un'ora e mezzo, un'ora e quaranta, ma non ve ne rendete conto perché non siete passivi davanti alla televisione, ma lo state gestendo voi. Comunque, quello che faremo adesso è, ritorno in pista, e vedete c'è l'animazione classica dove vengono tolte il termocoperte, pieno di queste chicche il gioco, mentre le clac stanno riconfigurando quelle cose, quegli assetto lì, quindi noi possiamo attualmente andare a Science per vedere un'altra delle aggiunte che sono state fatte, fanno il check radio, che dopo un po' inizio a urtarvi, perché sono cose banali a volte, altre volte invece interessanti. Qua sono le visuali, la cosa molto interessante, la visuale la potete tenere qui, la potete velocizzare fino al 2 per, quando andate oltre vi fa la visuale dall'alto. Ma l'altra cosa bella, bella poi magari vi stufa dopo un po', oltre alle classiche visuali laterali, o sull'alettone, la visuale è la helmet cam con la microcamera all'interno del casco. È molto bello perché anche quello che cambia sul volante sono cose, diciamo, reali, la marcia che vedete è quella giusta, effettiva. L'altra cosa, hanno approfondito molto il discorso delle temperature, nel senso che qua potete vedere i tempi, se è fatto verde o fucsia o giallo, insomma, la telemetria appunto. Potete andare a vedere qui, potete assumere manualmente il controllo del, come vi dicevo prima, dell'intensità del pilota, gli spingi, salva le gomme, qua è in automatico, e soprattutto anche il controllo dell'ERS che è la batteria, la batteria che va in recupero, una volta che si ricarica, può essere usata per avere dei cavalli e di conseguenza più velocità alla macchina. Questo è, in sintesi, quello che potete fare ma non lo faremo. Ora, io accelero, perché vedete che Leclerc ci sta mettendo un bel po' a montargli le modifiche, abbiamo, beh, un po' di minuti, quindi tecnicamente non ci sono problemi, ma la cosa bella... Ah, ok, il giro di rientro, gli dice ferma, e ho impostato che mi mette la pausa, cioè mi rimanda a un'opera di velocità quando ci sono comunicazioni importanti, lui ha fatto il suo tempo, e adesso Leclerc a breve avrà la macchina pronta. Adesso poi, la cosa bella è che quando trovate traffico, non è che, diciamo, li passa normalmente, li passa in mezzo, si ostacolano, e quindi vi perdete il tempo, dovete anche calcolare, cliccando qua la mappa, e vedere quando è il caso di far uscire il pilota per non avere traffico. Altra cosa molto bella, e ve lo dico, quindi vi dico bella perché mi piace, ma l'anno scorso io ho un titolo che ho massacrato, avevo fatto un video, non l'ho mai pubblicato perché non me la sentivo, però l'avevo massacrato perché era veramente pieno di punti negativi, era il primo titolo e si vedeva. La cosa bella, dicevo, è che ho visto un giro lanciato di un mio pilota, fa tutto bene, aveva i primi due settori verdi, quindi si migliorava, potevamo passare in Q2, ho visto l'ultima curva prima del traguardo che è uscito un pelino di più, ha fatto una sbandatina e si è vista, ed è, l'ho apprezzata molto come cosa. Ora, spediamo anche Leclerc, Leclerc esce, poi, ovviamente, non è F1-23 nella sua, diciamo, movimento plastico delle animazioni, cioè ci sono dei movimenti ogni tanto scattosi, un po' rigidi, è normale, però, calcolando che altri giochi non hanno queste visuali così belle, insomma, è una bella cosa. Ora, faccio fare Leclerc, il giro lanciato ed è purtroppo in mezzo al traffico, dovrebbe lasciare spazio a un po' di gente, vedete che gli fa passare, spero. Poi in gara gli potete dare le varie indicazioni, tipo lascia passare il compagno di squadra e cose del genere. Sta scaldando le gomme, Leclerc, dietro di lui c'è Norris, credo, e mi sa che sta dietro per tenere la scia, vediamo un po' se c'è dietro Norris, Sì, spero non si dà un fastidio. Traffico in arrivo. Ok, sta andando, è partito col su giro lanciato, lo metto in telemetria, così vediamo. Spero davvero che non incontri traffico in punti strategici, perché sennò qua ci buttano fuori. Vediamo. Cioè giusto per vederci questo giro? No, questo è senza problemi, ci fa passare. Vedete, questa è stata una curva un po' un movimento un po' improvviso, irreale, però ci sta. Anche questo non dovrebbe aver influito, se non forse ho sporcato un po' l'aria, però va bene. E l'altra cosa che io critico al gioco precedente, che forse è la più grossa e me la stavo dimenticando, è che a volte due auto facevano una collisione e ripartivano come se non la fosse, recuperando magari le posizioni. Adesso, allora, visivamente non è granché come danni, perché non si vede granché. Probabilmente anche per una questione di licenza non è che possono far vederle autodistrutte. Però anche solo la collisione con il doppiato, e capita anche quello, dove magari si rompe l'allettone, comunque l'allettone magari lo si vede ancora attaccato, porta a una sosta i box, un'ultima posizione o un ritiro. Ecco, questa è una cosa molto bella, che hanno migliorato. Quindi è davvero interessante come cosa. Allora, lenta i freni. Ok. E lui torna ai box. Ha fatto un fucsia nel Q1, scusate, nel settore 1. E a questo punto, vabbè, Sainz è tornato dentro. Possiamo fare... Ritorno alla sessione, sì. Acceleriamo, così vediamo quando l'Eclerc ritorna ai box. Gli avevamo cambiato l'assetto, perché non aveva un granché di assetto, dato che non abbiamo fatto le libere. Adesso noi possiamo andare a vedere che lui ha un 79% di preferenza. E non mi ricordo quanto era prima, però credo che sia migliore di quello che aveva prima. Ora, si può accelerare il tempo, lo potete fare anche nel Gran Premio, ma non ha molto senso, perché in Gran Premio lo accelerate magari due per o quando ci sono delle fasi tra una sosta e l'altra. Però vedete che in questo caso noi possiamo aspettare, non siamo molto a rischio, per quanto la pista ora sia gommata. È un gioco che tiene conto di un sacco di cose. i tempi delle soste con le safety car, l'usura degli pneumatici, la temperatura degli stessi pneumatici che potrebbero creare problemi, perché le temperature delle gomme sono importanti quando sono alti, perdono i performance e si usurano, quindi bisogna considerare anche quello. Ora abbiamo questa fase qui, dove abbiamo finito la Q1 e si passa in Q2. Possiamo avviare le qualifiche. Simulare fino alla gara. Simuliamo fino alla gara. Questa è una cosa da non fare mai, se no non comprate questo gioco. Si va in gara. Partiamo terzi e quarti. Ha fatto il viola tutta la Red Bull, quindi pazienza. Vi voglio far vedere giusto giusto la partenza. La partenza possiamo guardarla o dall'interno o dalla visuale televisiva. Noi adesso qua si deciderà la strategia, con la mescola di partenza, la strategia, la fiducia del pilota, insomma si va a fare, a scegliere una strategia. Io non scelgo una a caso, perché ho fretta di andare avanti e farvi vedere. Non sono il più indicato per insegnarvi a giocare a questo titolo, perché è Plan B, Plan D, questo qui. Ovviamente state qui, la potete personalizzare, e vi farà vedere quanto tempo perdete sulla carta. Poi dipende sempre cosa succede, se inizia a piovere, se c'è una sette. Ora, ci godiamo la fase di partenza, giusto per farvi vedere anche quanto è stato creato a livello visivo per immergere il giocatore nella Formula 1. Con il commento, io non avrei fatto il commento in italiano, insomma, perché nominano anche i piloti, poi magari i piloti cambiano e come fai, devi ridoppiarli. Però, la musica sarebbe quella ufficiale, ma l'ho tolta, appunto, per il video. Partenza. Vediamo con la visuale televisiva cosa succede. seguiamo l'eclerc, che parte più avanti. La prima curva, vediamo se succede qualcosa. E secondo? E poi si possono anche toccare, non è scriptato, è una cosa che lo script, diciamo, dell'azione si vedeva molto di più nell'uno. Adesso credo sia un pochino più a livello di numeri, di probabilità, di percentuali. Diciamo che non sta succedendo niente che non succede già nella realtà, quindi la simulazione è ottima. Per quanto abbia un effetto un po' di sgranato che non mi piace molto, ma senza, si può anche accelerare e possiamo andare all'interno e vedere quello che sta vedendo lui, come si vede in televisione. È suggestivo assolutamente. Sta perdendo, vanno via. Possiamo cliccare e vedere il replay del distrawl che ha sorpassato Sainz. Mentre che qua ha combattuto. E l'anno scorso non succedeva questo, succedeva che in dei punti precisi sembrava quasi un video che partiva, si allargava, sorpassava, andava avanti. E l'hanno reso molto più interessante. Ora, torniamo alla visuale di Leclerc. Poi ovviamente possiamo, cliccando per vedere dove si trova lui, dove si trova un pilota o l'altro, scusate. Leclerc ha perso. Alonso è lì e sta per passare anche lui. Sta salendo la Storm Martin. Uh! Cacchio è successo! Eccolo! È successo! Ok, è successo. Non doveva, ma è successo. Arrivediamolo. L'abbiamo visto in diretta, praticamente. e ma in realtà o che si è rotta una sospensione, ma se no per un contatto del genere riparti, si riparte. Ok, box, box. Dovremmo dargli noi box da rientrare. Penalità? Ah! Scusate, fammi vedere. Abbiamo danni. È la sospensione. A questo punto ritiriamo l'auto. Vedete che c'è il ritiro dell'auto e la ritiriamo. È successo. Sì, lo ritiriamo perché è andata male. Cioè, ha preso lui la colpa. Nei prossimi due minuti non pioverà. Anche qui bisognerà vedere perché non mettono pioggia. Dovrebbe essere poi una gara in notturna, quindi. Potenzione. Viene passato anche da Russell. È Science e è in crisi totale. Sì, sì, ma vai tranquillo. Vedete che qua possiamo andare a scegliere il ritmo e il carburante se fare economia o meno e l'Hers. E praticamente noi possiamo metterlo in modalità di accumulo o di potenza. Quindi noi lo in neutro, ok. Ottimizzato o accumulo o lampeggia la luce, fa un giro più lento ricaricando un po' la batteria per poi andare a avere più cavalli il giro dopo. Una volta si faceva col Kers che c'era un tot di secondi al giro adesso invece si ricarica così a un motore ibrido elettrico benzina. DRS attivato finalmente e qua vediamo che Science è a portata del DRS quindi tecnicamente potrebbe usarlo alla volta successiva cioè adesso. Adesso vediamo che dovrebbe aprirlo perché il rilevamento è giusto. è sotto il secondo quindi tecnicamente lo apre adesso infatti vedete che l'ho aperto e vediamo se ce la fa sorpassare Russell le valle però è dietro a due decimi quindi adesso voi capite che uno si fa prendere a guardare i piloti il Gran Premio vi passa poi se siete appassionati di Formula 1 ve lo vivete in scala 1 a 1 potete anche velocizzare quando magari tra una sosta e l'altra non succede niente tanto ci pensa il gioco a metterla a pausa però ecco con questo video che ormai credo sia venuto anche piuttosto lungo non volevo recensirlo non volevo farvi un gameplay ma volevo farvi vedere qualora siate tra quelle persone che non sanno se comprarlo o meno non hanno dei dubbi vogliono il parere di qualcuno che lo sta giocando ecco come faccio sempre con gli indie soprattutto ve l'ho fatto vedere come è come inizio come è come specifico insomma le cose che potete fare e poi se vi va lo prenderete e lo approfondirete da voi fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e alla prossima ringrazio ancora Frontier per l'opportunità di portare questo gioco in video alla prossima e ciao ciao frontier frontier Grazie a tutti.